Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video vi pensierò il booty che si ricarica come smoothie, ma un piccolo, ma come vedete è chiuso in scatola, qua Buzz Lightyear, Toy Story 3, Wind Up, giochi preziosi, qua Reds, qua ho i tre personaggi che ce li ho, collezione di YouTube, DS e CS, 3 anni in su, ora come vedete è chiuso in scatola, qui andiamo a esaminare prima la scatola, qui è tutto buntinato, qua è bianco, qua ho già una striscia blu, qui è rosso, qua Reds con i tre, ora passiamo all'apertura. Ecco Eccolo queste sono le istruzioni, questo è il body, insieme qua, ecco qua, ecco qua, così è il cammello. Andiamo ad esaminare, i braccio si muovono qua, qua la cintura, gli stivali, la camicia, qua la pelle di murca, qui dietro il cordino, il cappello, i capelli, la faccia, come vedete dettagliato, il cappello non ha la stascia, qui il testa senza righe, alle braccia girano, poi qui la stellina, i bottoncini, poi e qui i pantaloni, ora vediamo come funziona, allora, ve lo metto qua, allora, così, vabbè questa è l'idea, questo era Woody nel prossimo, al prossimo video c'è, Woody quello che si carica, Woody deve essere tre,